Le esigenze di climatizzazione di questa mia abitazione privata in Vigevano per un totale di superficie complessive di 220 metri quadrati circa erano quelle relative alla sostituzione di un vecchio e ormai inefficiente impianto di riscaldamento. Siamo entrati in contatto con l'azienda della Robur, successivamente a un progetto fatto all'epoca dal termotecnico che ha seguito tutta la progettazione e i lavori nel restauro di questa mia abitazione. Già molti anni fa, parlo di quasi 20 anni fa. Successivamente quando è stato possibile considerare invece oltre che per la refrigerazione estiva anche per il riscaldamento invernale macchine ad assorbimento di gas, quelle proposte appunto da Robur, ecco che si è nuovamente accesa un interesse specifico verso l'azienda di Zingonia che attraverso un ottimo sito internet dove sono pubblicate con grande attenzione tutte le specifiche delle macchine, è stato possibile quindi avvicinare dirigenti, avvicinare rappresentanti di zone e quindi intraprendere un percorso di valutazione di queste macchine attento e quindi poi che si è concluso con l'acquisto di questa macchina che ho montato. Mi hanno convinto queste motivazioni, questi plus della macchina promossa dalla Robur? L'alta efficienza energetica sostanzialmente, ovviamente correlata alla deficienza energetica sicuramente anche un maggior rispetto per l'ambiente dato che i minori consumi che poi si sono rivelati tali nel bilancio del primo anno sicuramente contribuiscono anche a questo. Il prodotto che abbiamo scelto è un prodotto di una pompa di calore a condensazione alimentata a gas con scambiatore acqua ad acqua. Vantaggi economici riscontrati con questo nuovo utilizzo del sistema Robur posso dire nella stagione invernale rispetto alla stagione invernale scorsa di aver avuto esattamente il 20% in meno di consumo di gas calcolato proprio sul contatore a consumo nonostante l'inverno piuttosto prolungato di quest'anno e temperature piuttosto rigide. L'altro beneficio che ho ottenuto con la scelta di questo prodotto è stata la possibilità certamente di poter godere rientrando comunque nei parametri previsti dalla legge di una macchina superiore ai 35 kilowatt in quanto i 35 kilowatt e i 42 kilowatt circa di questa macchina sono ottenuti parzialmente dall'assorbimento di gas e parzialmente dall'energia rinnovabile ho potuto ottenere quindi un maggior beneficio, una maggior potenza disponibile per il riscaldamento della casa. Ad oggi sono assolutamente soddisfatto della scelta effettuata, dovrò ben valutare negli anni a venire se tutti i parametri che sono stati considerati opportunamente verificati si manterranno tali ma al momento sono pienamente soddisfatto della scelta. Grazie a tutti! Grazie a tutti!